248 Sono andati a trovare un'altra volta Padre Pio. Roma, 20 settembre 1953. Carissimo fra Raffaele e Giuseppe, È quasi un mese che tu stai a Ceprano. Come ti trovi? Stai bene? Sei contento? Noi qui tutti bene, grazie al Signore. Il tuo preciso indirizzo quale è? Leonardo e Dio, due giorni dopo del giorno in cui tu sei passato per andare a Ceprano, ci siamo ammalati con la tonsillite e siamo stati quattro o cinque giorni a letto con un po' di febbre. È venuto il medico Ricotti, ci ha dato della penicillina in pasticche per bocca. È una penicillina mista sul famidici. Ora ci siamo rimessi. Leonardo, dopo la febbre, si è fatto una cura ricostituente di epamoxil, che è un concentrato di fegato di cavallo. Come sai, Teresa ha fatto l'esame d'ammissione alla seconda classe di ragioneria ed è stata promossa. Ora la scuola è parificata e la preside ha ritenuto che con la preparazione scarse che aveva non poteva essere ammessa la terza ragioneria. Deve quindi ripetere la classe. Penso, forse mi sbaglio, che se c'era mamma in buona salute questo non sarebbe successo. L'ultimo mese di scuola dovette frequentare poco e, d'altra parte, non aveva voglia di studiare. Dato che non ha sorelle, spesso va con le amiche e le compagne e non è docile i miei richiami, e d'altronde io sempre in ufficio sono sino alle nove e tre quarti di sera che ritorno a casa. Non mi riesce di sorvegliare quello che fanno quelli che stanno a casa. Leonardo lo vedo che sta sempre al tavolino, ma quest'anno non è riuscito a superare alcun esame. Roberto, fratellelio, ha fatto l'esame di licenza magistrale alla scuola pubblica che si trova a Piazza Indipendenza e deve riparare l'italiano, il latino e le scienze. Lo hanno destinato, avendo finito lo studentato, al collegio di San Giuseppe a Piazza di Spagna. È uno dei più grandi e importanti istituti di Roma, in cui ci sono scuole elementari, medie, ginnasi, liceo, ragioneria, ecc. e dove va Francesco. Il direttore mi ha detto che per ora lo fa arrestare ancora l'Istituto della Salle a Via dell'Inbrecciato e poi quando saranno aperte le scuole e l'Istituto di San Giuseppe comincerà a funzionare, regolarmente lo chiamerà. Suppongo che gli faranno fare l'Istitutore con i collegiali, intanto domani comincia gli esami di riparazione alla scuola pubblica in Piazza Indipendenza. Francesco si gode ancora le vacanze, però esce di rado da casa. Il figlio di mia sorella Lino è rimasto vedo essendogli morta la moglie. «Ignoro i particolari di questa morte». Zia Giulia, la moglie di Zia Guido, sta meglio ed è andata in villeggiatura. Dal punto di vista spirituale non mi risulta nessuna novità. Piero si è visto qualche volta alla Santa Messa a Santa Teresa. Mariella ha detto che è diventato amico del parroco Padre Paolino e non so altro. Zio Virgilia e Zia Gilda sono partiti e sono andati a trovare un'altra volta Padre Pio. I giornali di grande diffusione, come il Giornale d'Italia e del Tempo, da vari giorni stanno dando notizie di miracoli ed apparizioni. Anche la rivista Illustrato Orizzonti, che si vende in parrocchia, ne parla. Questo avverrebbe a Siracusa, in Sicilia. Ci sarebbe stato un miracolo di una bambina guarita da polio mielite al Congresso Eucaristico Nazionale di Torino e qualche cosa di straordinario anche in un paese della Francia. In un piccolo villaggio siciliano una bimbetta di cinque o sei anni avrebbe visto la Madonna. In quel momento la bimba stava mangiando una mela. Allora la bimba si sarebbe rivolta alla Madonna Celeste. «Che vuoi la mela?» E a questa parola la Madonna avrebbe risposto «No, voglio molta fede». L'osservatore romano e il quotidiano non riportano nulla intorno a queste cose. 29 settembre «Fracorrado mi ha dato tue notizie e che stai bene. Abiti al secondo piano del fabbricato, che a Nessa al convento c'è una chiesa aperta al pubblico. Ho incontrato per la strada anche il molto reverendo padre provinciale, il quale mi ha assicurato sulla tua buona salute e mi ha detto che la professione non si farà il 7 ma qualche giorno dopo. Ho preso tre o quattro giorni di congedo all'ufficio. Sarei venuto da te, ma mi sento un po' indebolito per la tonsillite. Mi hanno detto che ci vogliono due ore e mezzo di autopulman. «Nel vostro convento poi c'è da mangiare o bisogna andare in trattoria? C'è da pernottare o bisogna ritornare a Roma nella stessa giornata?» L'altro ieri, finalmente, dopo parecchi mesi da quando hanno fatto la prima comunione, ho portato il regalo ai figli di mio cugino, figlio del fratello di mia madre, Nando Ferdinando Minutillo. Ho pensato veramente nel fare il regalo più a mio cugino, che è laureato in Belle Lettere e fa l'impiegato presso le ferrovie dello Stato, che ai bambini perché gli ho regalato la vita di Gesù dell'abbate Ricciotti. Ha molto apprezzato il regalo e mi ha tanto ringraziato. Bisogna che tu mi faccia sapere la data esatta della funzione della professione e l'ora in modo che io possa regolarmi per prendere la corriera. Durante la tonsillite ho letto le confessioni di Sant'Agostino. Egli descrive non solo la storia della sua vita, ma anche quella delle sue idee filosofiche anteriori alla conversione. Le pagine in cui parla di sua madre, Santa Monica, sono sublimi. Vi è una bella edizione in italiana della Pia Società San Paolo. Non so se voi l'avete. Ho fatto questa riflessione. I Santi il Signore li prende da tutte le categorie sociali. Sant'Agostino era un professore universitario statale. Insegnava lettere e giurisprudenza. Sant'Ambrogio era un grande impiegato dello Stato. Faceva il prefetto a capo di una vasta provincia. San Benedetto era uno studente universitario. San Francesco d'Assisi un soldato di cavalleria. Sant'Ignazio di Loiolo un capitano dell'esercito, combattente e ferito in combattimento. Tutti questi abbandonarono la loro vita precedente e poi divinero santi. Altri santi però sono entrati in tenere età nei seminari e nei conventi. San Giovanni della Croce, San Giovanni Bosco, il Beato Pio X, per esempio. Altri di umile condizione sociale come i Santi Isidoro, il Contadino, i Ludici Apostoli, i Poveri Pescatori, San Crispino, il Calzolaio, ecc. Vostra madre, Lelia, aveva una devozione speciale per Santa Monica, perché nel giorno della festa di questa Santa aveva fatto la prima comunione, e quando eravate piccini vi conduciva sempre all'altare di questa Santa nella chiesa principale del Lido di Roma. È un altare che si trova a sinistra entrando, in cui c'era figurata Santa Monica e Sant'Agostino. Io sono stato a San Pietro, quanta mondanità per le strade, fino ai limiti del Sacro Tempio e dei Sacri Palazzi. Capisco perché un sacerdote che mi venne a trovare in ufficio una volta mi disse Beato lei che è costretto a restare per tante ore fra queste quattro mura dell'ufficio. Così non vede il lavoro, le occupazioni, le limitazioni della libertà. Sono delle difese che il Signore ci fornisce, altrimenti sarebbe molto difficile resistere. Perché ne sento ripugnanza allora? Perché queste sono difese come sono le medicine che prese oltre la proporzione prescritta farebbero poi male alla salute? La ripugnanza serve quindi a limitare l'uso, a limitarne l'uso perché non facciano male. La ripugnanza poi serve per avere il merito. Se noi facessimo le cose più dolorose e difficili senza alcuna ripugnanza non avremmo alcun merito che ci servisse per il Paradiso. Sono ormai giunto al termine di questa lettera e ti prego di asseguare i tuoi nuovi superiori ed in particolare il reverendo Padre Priore che io non ho avuto ancora il bene di conoscere personalmente. Ringraziali anche a nome mio per le cure che hanno per te. Tanti affettuosi saluti da parte di Leonardo, di Francesca e di Teresa ed anche da parte di Roberto Fratellenio. e la santa benedizione da papà tuo. Ringrazio